Per secoli, una storia è stata tramandata di generazione in generazione. Quest'anno, guarderete il Natale da una prospettiva completamente diversa. Aspettate! Cyrus! Deborah! Dovevamo svoltare a sinistra due deserti fa. Questi sapientoni si sono persi. Ora basta! Strappo le redini a morsi! Dallo studio che ha prodotto Hotel Transilvania. Re Erode sta tramando qualcosa. Maria, sei in pericolo! Devi ascoltare quello che sto per dirti con molta attenzione! Vuoi i grattini sulla pancia? Gli eroi del Natale. Va fuori e cerca di distrarli. Ehi! Sacchi di bucci! C'è decisamente qualcosa di strano in questi animali. Viisuri paesi maden Panic. Fa pun. Grazie a tutti! Padrefeld disse il Natale... Fatima! ensorba sta transplantato! ... ...